signori buongiorno a tutti questa è la situazione domenica mattina quasi 11 ho finito di montare canna adesso l'ho appena lanciato due canne col granchio è una canna cagos la giornata è favolosa mi sono venuto a far mezza giornata guardate che giornata speriamo che ci regali una bella orata il mare è stupendo che spettacolo ragazzi guardate che bello sono rimasto in po di granchietti vivi usiamo un bel po di sole e speriamo che ci parta la canna dai ragazzi guardate che spettacolo signori guardate che meraviglia passeggiata a cavallo che giornata ragazzi nel frattempo ci abbiamo avuto una mangiata sulla 5 metri ho visto una piccola sgrullata i granchietti tutti e due scoppiati perciò insomma ci stanno parecchio radini si passa la bocca giusta a crepano guardate che bello signori dai su ci state tutto sulla spiaggia mancano solo orate ok no meno ora caso siamo è , sono è è Grazie a tutti. 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 E' bella orata rasetta o tetti, guarda che ciavatta. Bella piegata di canna, guarda che pesce. Guardate che pesce. Bella, 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 bella mangiata ragazzi, bella bella mangiata. Grazie a tutti. Dai ragazzi, guarda che pesce. E' allisciato. ich è mortati. insomma pescatore siamo arrivati quasi ai tre del pomeriggio abbiamo visto qualche magnatina gran chirotti però non siamo riusciti a agganciarlo però il mare è stupendo vale la pena restare un altro vetto magari fanno un altro bel pesce vediamo se sta la giornata dai guardate che spettacolo dai su belle dai e piegate mannaggia su ecco c'è pescatore siamo giunti alla fine ora cominciamo a chiudere piano piano una giornata meravigliosa ragazzi una giornata meravigliosa mi piange al cuore andrà via però vabbè sono contento così il mare mi ha regalato una splendida giornata che non dimenticherò mai come sempre ma soprattutto mi ha regalato anche oggi un bel pesce una bella orata di circa 8-9 etti e questa la condivido sempre con tutti voi in particolar modo questa la voglio dedicare a Francesco Ciotola un pescatore napoletano un carissimo amico Francesco questo è per te e tutti i pescatori napoletani ragazzi è stata una giornata meravigliosa spero di tornare a pesca presto e di divertirmi ancora con voi continuate a riscrivervi e vi mando un grosso saluto ciao ragazzi un grosso saluto da Sarco ciao